Ciao ragazzi, anche in questo video proviamo i giochi austriaci mentre nel primo abbiamo provato i Glibi Slime Maker che erano più una sorta di esperimenti in questo proveremo il Glibi Glitter che invece va messo nella vasca da bagno ed è un po' come se si facesse il bagno nello slime e sono molto curiosa e lo voglio provare insieme a voi quindi apriamo la scatola allora qui abbiamo le istruzioni che sono in tedesco quindi ci forniremo due translator qua abbiamo credo sia del sale da cucina due pacchetti uno e due qui invece abbiamo il nostro Glibi Glitter con dentro dei veri e propri glitter è viola però c'è scritto che verrà rosso però vediamo allora quindi mettendo questa bustina nella nostra vasca da bagno riusciremo ad ottenere lo slime in cui noi ci faremo il bagno ok allora c'è scritto che è al gusto di zucchero pilato sono molto curiosa di sentirlo ragazzi siamo pronti per partire io non lo faccio nella vasca da bagno perché compri un esperimento però allora qui c'è scritto che una bustina va in 30 litri di acqua quindi siccome io utilizzerò mezzo litro sono circa 2,5-3 grammi di polvere quindi mettiamola 3 grammi perfetto quindi questa è la nostra polvere mettiamo nella ciotola mezzo litro di acqua tiepida mezzo litro di acqua tiepida la nostra polvere coi glitter ok e mescoliamo c'è scritto anche qui che bisogna aspettare 5-10 minuti prima che venga bene la nostra sorta di slime quindi aspettiamo 5-10 minuti e dopo aver aspettato 5 minuti questo qui è il nostro meraviglioso risultato pensate a fare il bagno qua dentro che forte meraviglioso scussarlo oh guardate oh sono veramente di zucchero filato wow un odore buonissimo mamma mia anche il colore è meraviglioso poi ci sono veramente questi glitter wow devo dire che anche questo è spettacolare oh pensate a fare il bagno qua dentro anche questo li da state fare così e dentro la confezione ci sono ben due bagni che si possono fare guardate guardate credo è meraviglioso veramente lo proverò lo proverò e ci proverò certamente a fare il bagno qua dentro quindi questo qui è il risultato però per smaltirlo non si può buttare direttamente perché attapperebbe il lavandino così c'è scritto di aggiungere il sale del sale che è si ha dato due buste nella confezione però nel caso non dovesse abbassare quello che è già fornito si può utilizzare semplicemente del sale da cucina e quindi bisogna aggiungere la stessa quantità d'acqua quindi mezzo litro aggiungiamo mezzo litro di acqua è bello anche così e poi aggiungiamo il sale finché non si scioglie mi diventa aggiungiamo poco per volta bello si sta iniziando a sciogliere si si sta iniziando ok quindi spero che il video vi sia piaciuto a me è piaciuto moltissimo il risultato mettetemi un like e continuate a seguire i miei video per scoprire come saranno gli altri giochi dell'Austria che a me è piaciuto a me è piaciuto